eccoci 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 cari amici nuovamente insieme avete visto questi giorni siamo stati impegnati in fantastici comizi in giro per l'italia conferenze siamo stati a firenze venerdì a treviso sabato a trento ieri migliaia migliaia di persone con cui abbiamo colloquiato e con i quali ci siamo confrontati la cosa fantastica è che ci confrontiamo nelle piazze con le persone ci abbracciamo ci tocchiamo ci diciamo le nostre idee cresciamo miglioriamo ci acculturiamo è questa la cosa meravigliosa di questo fantastico mondo di questa fantastica famiglia che abbiamo creato abbiamo creato una meravigliosa famiglia sono andate via da qualche minuto qui da qualche minuto da qui dallo studio le operatrici sanitarie di un paese vicino roma dello studio ospedale di velletri con cui abbiamo colloquiato abbiamo spiegato loro quali sono i loro diritti sono persone che vogliono poter scegliere mi vaccino o non mi vaccino se mi vaccino con quale vaccino è la libertà di scelta che va tutelata allora prima di andare a farvi vedere come al solito delle notizie certificazioni amici di youtube che ci censurate i video sbagliate con noi state facendo delle cose illogiche ma anche illegittime perché noi cosa facciamo noi riportiamo solo documenti certificazioni articoli di altri di giornalisti di scienziati di medici e spesso neanche li commentiamo come guardate come si fa a commentare questa notizia vediamo così capiamo subito quello che facciamo ecco diteci come facciamo a commentare questa notizia caos vaccinazioni nel lazio falla nel sistema inviati certificati sbagliati l'assessore si scusa no scusate ma che possiamo commentare questa notizia ma come i nostri dati sensibili i nostri dati sensibili le vaccinazioni falla falla nel sistema ecco ci dicono state tranquilli i vostri dati ci pensiamo la garante della privacy guai nessuno può modificare i dati sono blindati avete la sicurezza falla no riguardiamo perché è un amici di youtube stiamo facendo vedere un documento amici di facebook non sono cose che diciamo noi ecco riguardiamo falla nel sistema inviati certificati sbagliati caos vaccinazioni ecco dice ma no va beh questo questo nel lazio ma è lo stato garantisce la nostra sicurezza dice chi si guardiamo guardate guardate ciao viola ecco guardate ecco giornale messaggero sono sicuri siti di repubblica amministrazione vittorio colau cioè non non l'avvocato colacco vittorio colau no nel 95 per cento come dichiarato il ministro vittorio colau al rischio soprattutto i dati personali ecco questo è il ministro il ministro e poi dite a noi state tranquilli i vostri dati sono riservati abbiate pietà abbiate pietà vedete il titolo anche di questa trasmissione ricordiamoci io vi prego ricordiamoci al di là dei nostri problemi i nostri bambini teniamoli teniamoli preservati dalla vigliaccheria di questo momento sociale ma come si fa a prendersela con i bambini ma voi lo sapete voi pediatri psicologi medici io mi rivolgo tanto ai medici guardate io come ben sapete ho 64 anni ho conosciuto centinaia forse migliaia di medici ho conosciuto dei medici fantastici che hanno dedicato la loro vita alla medicina ho parenti medici che dedicano la loro vita trascurando anche i figli alla medicina purtroppo una grande parte di medici oggi se ne fregano dei loro pazienti se ne fregano dei loro figli abbiamo alcuni medici di famiglia non l'abbiamo non li abbiamo mai sentiti siamo stati male li abbiamo chiamati non hanno risposto se hanno risposto ci hanno detto vai in ospedale se non ci hanno mandato in ospedale ci hanno detto vai dalla dalla guardia america non sono mai venuti a curarci o visitarci in questi giorni capperi ci telefonano a casa ci telefonano a casa devi venirti a vaccinare allora allora quando vi telefonano a casa e vi dicono devi venirti a vaccinare chiedetegli perché è un diritto quanto vieni pagato quanto vieni pagato ogni vaccino chiedetegli è un diritto perché quei soldi non sono soldi che provengono da biden o da israele sono i nostri soldi delle nostre tasse allora chiedete al vostro medico che vi telefono a casa quanto guadagna quanto guadagna vaccinarvi è lecito legittimo è un guadagno prendi dicono alcuni articoli quindi non lo diciamo noi circa 3.200 euro in più dicono 80 euro in più al giorno dagli 80 ai 100 euro al giorno questo è quello che guadagna e perché non mi sei mai venuto a visitare allora vi voglio dire alcune regole nessun medico ci può telefonare a casa obbligandoci ad andare a fare il vaccino primo ricordatevi quindi se no se volete fare il vaccino andate tranquillamente se non volete fare il vaccino gli si dice mi dispiace il mio vaccino te lo cedo farlo a chi desideri magari anche ai tuoi parenti e se alcun dato che alcuni medici i bassi stanno facendo e se vi dicono devi venire a firmare non c'è nessun obbligo di nessuna firma sappiatelo quindi se vi dicono venite a firmare è una bufala è un abuso è un abuso di potere se volete possiamo denunciare questi personaggi questo perché perché a fronte di qualche spregiudicato tantissimi medici fanno il loro fantastico dovere ne citiamo uno per tutti uno per tutti due per tutti fabbio milani e mariano amici ma perché dobbiamo tutelare i nostri bambini i nostri figli i nostri minori perché in questo momento di pandemia in questo momento di pandemia tanti bambini altro che covid si stanno suicidando bambini che si suicidano bambini depressi bambini che fanno gesti di autolesionismo in questo periodo guardate vi faccio vedere due articoli perché poi ma che gliene frega a loro dei nostri bambini guardate li guardiamo insieme i dati ecco quadruplicati casi di anoressia quadruplicati anoressia nove anni l'abisso dei ragazzi tentativi di suicidi ed atti di autolesionismo in aumento il lockdown fa esplodere il fenomeno ecco guardate e questo non è questo è un quotidiano che basa questo che dicono su cose scientifiche ecco paolo mi stai dicendo ecco i nostri i nostri ascoltori stanno dicendo anche il mio medico vuole che firmi è vietato è vietato è vietato chiamare un paziente e chiedergli di andare a firmare è vietato segnalatecelo li quereliamo segnalatecelo li quereliamo mi raccomando e cosa dicono cosa dicono le fonti di informazione dicono loro le fonti di informazione guardate hanno creato un milione di cavie per i cocktail di vaccini diversi una mattina una mattina una mattina si sono svegliati una mattina un ministro una mattina un certo generale figliolo adesso apriamo anche una piccola parentesi su generale figliolo una mattina un virologo e hanno detto tre cose diverse abbiamo non volete fare astrazeneca allora fate psa e pfizer chi non ha fatto pfizer può fare astrazeneca è moderna alla fine non sapendo più che fare hanno deciso perdonate ma è un termine tecnico di sperimentare il cocktail di vaccini su di noi perché perché come ben sapete i vaccini finiranno la sperimentazione del 2023 quelli inoculati avevano 4 6 mesi massimo di sperimentazione ma ovviamente prima di questo dato nessuno aveva sperimentato addirittura il cocktail di vaccini una mattina senza sperimentazione ognuno ha detto la sua finché qualcuno ha detto sì anzi fanno addirittura bene lo dicono loro dato che lo dicono loro voi che andate a fare questo cocktail chiedete loro di metterlo per iscritto andate dice buongiorno dottore io dovrei fare il richiamo bene che cosa mi vuole fare dice guardi ti faccio il moderna perché il cocktail fa bene benissimo ecco mi faccia la cortesia quello che mi sta dicendo me lo scriva qui perché io voglio avere un certificato mi dovesse succedere qualche cosa a me non potrò dire il medico che mi ha fatto il vaccino mi ha detto non dico che non è vero ma qualcuno ce lo deve pure scrivere su un certificato che il cocktail ti farà bene cocktail come dicono gli altri ecco facciamo rivedere non lo diciamo noi hanno creato un milione di cavie per il cocktail di vaccini diversi auguri ma ma poi c'è di più ma poi c'è di più ci sono tanti medici alcuni no tanti pochi bravissimi che stanno continuando a curare i malati non li mandano in ospedale ci fanno risparmiare soldi salvano vite tanti tanti li amiamo li amiamo no scusate pochi pochi ma li amiamo sono pochi ma li amiamo che cosa succede gli mandano in as per vedere come curano gli mandano in as non lo diciamo noi ecco qui ecco qui ciao maria ecco curi i malati il ministero in as mandano in as curi i malati avendo osservato la sua efficacia contro il covid molti medici prescrivono agli infettati l'antiparazzitario iver ivermeticina ma anziché favorire i test le as su impulso dei regolatori schedano e fanno controllare le farmacie ecco qui io vi domando ma vi sembra una cosa normale invece di dare una medaglia a questi medici invece di aiutarli invece di sperimentare perché non li chiamoci vieni qua sperimentiamo insieme quello che stai facendo quante quante persone ha ammazzato nessuna capperi quante le fatte guarire tutti capperi allora è una possibilità enorme no gli mandano in as e adesso e adesso vediamo a cosa si stanno indirizzando a due cose è vergognoso questo è una mia asserzione di cui mi prendo tutta la responsabilità è vergognoso che un responsabile nazionale che tra l'altro mette un cappello in testa con una piuma e una divisa mimetica possa dire in televisione adesso andremo a caccia dei sessantenni andremo a caccia di che? ma a caccia di cosa? ma scusi generale figliolo io sono un sessantenne sono un libero professionista sono un cultore del diritto io ho diritto di scelta e lei non può cacciare nessuno se vuole venire a caccia venga con me a caccia di fagiani ma lei a me non mi caccia anzi il mio studio lo trovo sull'elenco telefonico e non c'è bisogno che mi mandi né la polizia né nessuno viene e mi venga a trovare e una volta che mi trova cosa mi fa? cosa mi fa? io le sto dicendo che non mi vaccino finché non finirà la sperimentazione che state facendo sugli esseri umani la sperimentazione sugli esseri umani io personalmente non la condivido e non mi faccio vaccinare lei la condivide si faccia vaccinare lei con la sua famiglia giustamente ma le ricordo che la costituzione italiana mi consente di scegliere e finché mi consente di scegliere io scelgo quello che ritengo più opportuno perché io ho la sua stessa cultura ho i suoi stessi diritti quindi lei sceglie l'eutanasia io non la scelgo lei sceglie l'aborto io non lo scelgo lei sceglie il vaccino io non lo scelgo questa se lei non lo sa si chiama democrazia io capisco che è stato abituato per tanti anni a dettare ordini a quei poveri militari che hanno dovuto fare la leva sotto di lei ma in uno stato democratico e civile non si va a caccia di persone al massimo ci può discutere e al massimo li dovrebbe convincere a me non mi ha convinto né lei e né il suo governo che lei rappresenta e cosa dicono i giornali su questo le riviste scientifiche i pediani italiani si arruolano nella grande corsiata per vaccinare tutti i bambini per la sip questa sip adesso vi faremo sapere con questi giorni chi è questa sip sip società italiani pediatri ma ne poi vi racconteremo chi è questa sip perché è una società privata però per la sip hanno deciso di dettare leggi sono quelli che fanno i congressi poi vi diremo chi finanzia questi congressi legittimamente ma poi vi diremo le società che finanziano anche la sip per la sip dai 12 anni in su bisogna procedere con la profilassia anche se i rischi del virus a quell'età sono bassissimi e gli altri paesi e l'organizzazione mondiale della sanità dicono il contrario cioè che non bisogna vaccinare i bambini lo dicono gli altri paesi e l'organizzazione mondiale della sanità al contrario i nostri a brignani professor brignani vaccino covid a minori possibile a settembre guardate questo titolo perché adesso vi do una notizia possibile a settembre la notizia che vi do e vi ridò nuovamente è che molto probabilmente si stanno preparando a emettere una norma decreto legge o un dpcm per cui alla ripresa dell'anno scolastico proveranno a imporre l'obbligo di vaccinazione ai bambini e a tutto il personale scolastico per cui sappiate fin da adesso genitori fin da adesso che la costituzione italiana le norme le leggi vi consentono l'educazione parentale e l'homeschooling chi non volesse assoggettarsi a questi nuovi obblighi può scegliere l'educazione parentale o l'homeschooling e infatti non lo diciamo noi ma lo dice l'europa perché se parlando con noi invece di colloquiare con noi ci dite negazionisti non maschi parolacce perché parolacce perché noi non neghiamo nulla io non nego nulla tu invece neghi la costituzione italiana io non sono contro i vaccini perché mi sono vaccinato io non so se sei vaccinato tu io non consento a te di farmi un'iniezione se non voglio è semplice quindi tu stai negando un mio diritto quindi io ti dovrei dire negazionista non te lo dico perché sono una persona democratica ma non lo diciamo noi ma chi lo dice la gran bretagna ecco qui ecco qui londra frena sulla profilassi per i bambini dopo le perplessità degli esperti israeliani il comitato britannico per l'immunizzazione sconsiglia di ampliare la campagna vaccinale ai minori di anni 18 ecco quello che dicono gli altri paesi europei tutto qui concludiamo dicendo stiamo combattendo con il comparto sanità sappiate che abbiamo inviato le diffide alle asa e direttori generali stiamo difendendo tantissimi sanitari che stanno creando un argine a questa illegittimità costituzionale siamo insieme a tantissimi avvocati sparsi in tutta italia iniziando iniziando dai mille avvocati per la costituzione di lillo musso al comi cost lillo musso in sicilia comi cost di 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 moriggia dell'avvocato moriggia a milano agli avvocati dell'associazione io sto con l'avvocato polacco a roma stiamo difendendo centinaia e centinaia di sanitari in tutti i tribunali d'italia e siamo sempre e saremo sempre a vostra disposizione per far sì che i diritti i diritti dei cittadini italiani possano finalmente ritornare ad essere i diritti di tutti vi abbraccio abbiamo delle notizie molto importanti dopo domani vi faremo vedere delle piccole vittorie che abbiamo già ottenuto un abbraccio in alto i cuori